Salve a tutti, in questo video tutorial faccio una rata codice di Wynasio, vi avevo spiegato che Wynasio si configurava in un certo modo e i sit di Windows funzionavano con Wynasio, invece nel sit che ho utilizzato, Wynasio teoricamente non serve perchè si collega la tastiera ugualmente anche senza, quindi il mio test non era valido. Adesso vi faccio vedere cosa bisogna aggiungere, andando nel menu scrivo Wynetrix e mi è stato detto scartabellando per vari forum di andare su Select Default Wynetrix, di andare su Change Settings, di mettere il flag su Sound uguale e alza. Dopo che ho fatto questo, quello che ho visto è che dentro la sezione Interface trovo ASIO, questo è il modo per collegarsi realmente ad ASIO e pilotare una tastiera, invece questo Synth Pro 53 gira in Wynasio senza ASIO e si collega la tastiera ugualmente. S�자는 si stache. Sta suolando. ok per questo tutorial è tutto ci vediamo al prossimo grazie